Siamo a Sorana, una frazione di Pescia in provincia di Pistoia, nella Toscana forse più bella. Siamo qui per raccontarvi invece una storia molto più triste e molto più brutta. Qua a Sorana negli anni 80, a cavallo fra gli anni 80 e gli anni 90, c'era una fabbrica, una fabbrica che faceva resine, materiale per computer, materiale elettrico. È stata chiusa la fabbrica e tutti i materiali inquinanti sono stati dismessi in modo un po' particolare. Così raccontano le persone del posto e noi siamo precisamente in un campo sportivo, vedete eccolo qua, un ex campo sportivo, che è abbandonato da tempo, ma quello che raccontano all'interno di questo paese, di questa frazione, è che in questo campo sportivo, sotto i nostri piedi, hanno seppellito tutto il materiale inquinante senza nessuna attenzione, senza nessuna particolarità e senza seguire quelle che sono le norme. La cosa particolare che conferma un po' questa teoria che raccontano il paese è che nonostante la fitta vegetazione che ci sia tutto giro giro, come vedete qua, esattamente dove si racconta che siano stati seppelliti i materiali inquinanti, non c'è niente, non cresce più niente. In paese c'è chi è preoccupato, ma c'è anche molto omertà, molto silenzio, perché sempre si dice, me ne assumo io la responsabilità, che quando la fabbrica ha deciso di chiudere e pare non abbia smaltito come dovrebbe smaltire il materiale, diciamo che è stato smaltito anche da qualcuno del paese con qualche aiuto economico, quindi è stata fatta una cosa un po' leggera, quindi c'è molta omertà anche nel paese, ma c'è molta preoccupazione per la salute. Come mai mi hai chiamato? Mi hai chiamato perché volevamo restituire questo campo sportivo ai bambini. Perché non viene ovviamente utilizzato da nessuno? Perché non viene naturalizzato, invece sarebbe bello poterlo riutilizzare come è sempre stato. So che è dalla presenza del paese che è stato accatastrato tutto qui in questa zona e anche in altre zone le scorie di adesine massi quando la fabbrica è chiusa. Quindi c'è un problema non solo per i bambini che non possono giocare a calcio, ma c'è un problema di sicurezza per tutti gli abitanti di questo paese, di tutta la zona della vallata in cui vicino si coltivano anche dei prodotti importanti, dei prodotti tipici, quindi è giusto per la salute di tutti i cittadini sapere cosa è accaduto davvero qui. Noi abbiamo presentato un'interrogazione in regione come Fratelli d'Italia e adesso facciamo anche una lettera all'ARPAT chiedendo di venire nei prossimi giorni subito con urgenza a misurare il livello di inquinamento che c'è qui sotto i miei piedi, che c'è qui sotto i piedi di questi cittadini di Sorana, per sapere esattamente se c'è un pericolo, cosa c'è all'interno e se si può realizzare di nuovo il campo sportivo e mettere in sicurezza la salute dei cittadini. Anche perché io avevo chiesto all'inizio questa storia del campo sportivo perché volevo sapere quali sono le sostanze chimiche che sono interrate, perché io ho un pozzo artesiano e volevo capire se l'acqua di falda è arrivata all'inquinamento di queste sostanze, perché queste sostanze sono altamente tossiche. Grazie. Grazie. Grazie.